Si è parlato di povertà nel VCO in occasione del tavolo, convocato questa mattina a Villa Taranto dal prefetto Michele Formiglio. Si tratta del terzo incontro sul tema organizzato. Presenti i rappresentanti dei comuni di Verbania, Domodossola e Omenia, la Caritas, i consorsi dei servizi sociali e associazioni. L'iniziativa va nella direzione della promozione della coesione sociale, spiega Formiglio, un aspetto al quale ho da sempre dato particolare attenzione. Specialmente è importante in questo momento, con la recente crisi sanitaria che ha avuto grosse ripercussioni e l'inattesa guerra scoppiata in Europa. Per questo l'attenzione deve essere massima, per non lasciare nessuno indietro, per evitare che si verifichino fenomeni di emarginazione e l'acquirsi di diseguaglianze, dato che in questa situazione il rischio è molto alto. Il prefetto si dice soddisfatto del lavoro svolto. Trovarsi tutti a un tavolo è un'occasione per ciascuno di illustrare le proprie attività, ma allo stesso tempo di creare collaborazioni ed evitare sovrapposizioni di attività, e allo stesso tempo per individuare le tematiche che meritano più attenzione. Le risorse in campo nel VCO sono ampie e credo sufficienti per far fronte alla situazione. Giudizio positivo, quello del prefetto, anche sulla coesione del territorio. Credo che ci sia una grande capacità di risposta da parte del territorio, grande capacità di mobilitarsi per le necessità.